Sono state diffuse online scre e shot del nuovo aggiornamento, ricchissime novità in arrivo come tantissime nuove strutture e truppe. Enorme spoiler, è vero ormai dopo un mese e più di attesa e voci di corridoi tutti ce lo meritiamo, un grandissimo e clamoroso lecca ha rotto il silenzio sul nuovo aggiornamento. Gruppi hacker hanno scoperto nell'ultima release di Clash of Clans con tantissime nuove strutture, nuove difese combinabili, nuove truppe e altro. Le nuove truppe in arrivo sono la strega notturna e lo sgherro avvelenato, la prima produce pipistrelli e alla sua morte un piccolo stormo, lo sgherro avvelenato invece è un mistero. Il costruttore nella nuova modalità isola, avrà una versione potenziata e riuscirà a costruire numerose strutture completamente nuove o che conosciamo permettendo loro di essere in grado di difendersi, è possibile notare accanto agli edifici delle leve o dei piccoli cannoni. Nelle immagini è possibile notare anche la nuova struttura capanna del costruttore, molto più grande di quella a cui siamo abituati. Non solo secondo voi pare che il muratore possa diventare una truppa da assalto in grado di infliggere enormi danni usando il martello, in puro stile eroe sulle isole. Sempre grazie al nuovo costruttore, sarà possibile potenziare difese già presenti sul proprio villaggio consentendo loro di ottenere benefici speciali come la possibilità di raddoppiare o triplicare il danno inflitto al nemico.